Loredana lecciso gelosa di Romina Power? La confessione a Verissimo Verissimo, la rivelazione di Loredana lecciso su Romina Power La scorsa settimana a Verissimo è stata invitata Romina Power In quella occasione, l'artista di origini americane ha anche parlato di Albano E ad un certo punto ha rivelato davanti a una Silvia Toffanins bigottita di essere ancora amata dal compagno di Loredana lecciso Ovviamente, nemmeno a dirlo, dopo quella dichiarazione che è stata una vera e propria bufera sul social Ma non è finita qua perché a distanza di una settimana, come segnalato dal blog Gossip Blog, ecco arrivare a Verissimo proprio l'alecciso, la quale ha voluto rispondere proprio alle dichiarazioni di Romina, asserendo senza tanti peli sulla lingua E' stata un'ironia divertente ma opinabile e Tuttavia la donna è sembrata un vero e proprio fiume in piena E' sempre ospite nel salotto della compagna di Persilvio Berlusconi ha anche dichiarato di essere stata gelosa di Romina, rivelando L'unione tra me e Albano ha quasi raggiunto la maggiore età Siamo insieme da 17 anni Io sono sempre stata gelosissima, anche se con l'età lo sono molto meno e all'inizio ero gelosa anche di Romina Loredana lecciso a Verissimo, la confessione su Romina Power Loredana lecciso, tra alti e bassi, è la compagna di Albano ormai da 17 anni Da questo amore sono nati ben due figli Ma questa unione non è mai stata molto apprezzata dai fan dell'artista di Cellino San Marco e di Romina Power Difatti, proprio questi ultimi due hanno composto un idillio d'amore e artistico durato decenni Purtroppo però, dal momento in cui è scomparsa la figlia Ilenia oltre 20 anni fa, sono iniziati i primi litigi e incomprensioni Litigi che hanno portato a far degenerare la situazione fino ad arrivare al ferale epilogo, la separazione e, successivamente, il divorzio Ma Albano non si è dato certo per vinto, e dopo il fallimento del suo matrimonio con la Power ha incontrato l'alecciso, con la quale ha formato una bellissima famiglia Una relazione che, come rivelato a Merissimo dalla stessa donna, ormai è arrivata a superare i 17 anni Per molto tempo i rapporti tra Albano e Romina sono sembrati essere davvero tesi Tuttavia negli ultimi anni due sono tornati a lavorare insieme, ricomponendo la coppia almeno dal punto di vista artistico E su questo fatto, l'alecciso ha dichiarato al rotocalco del sabato pomeriggio di Canale 5 Ho trovato l'idea molto divertente e non sono andata al loro concerto solo per rispetto, perché era un momento loro L'ho anche vissuto come un momento di tregua Insomma, pare davvero che il clima tra i tre non sia poi così teso, e eventuali incomprensioni siano ormai un lontano ricordo Per vedere l'intervista completa dell'alecciso dalla Toffanin non resta che seguire Oggi Verissima a partire dalle 16.10 circa su Canale 5 Buona visione Buona visione Buona visione